Siamo con il capitano Marco Poleto. Marco, una partita, secondo il nostro punto di vista, giocata bene da Teleam Medical. Forse meritava qualcosa di più questa partita. Com'è la tua chiave di lettura? Sì, abbiamo fatto una buona partita. Peccato, abbiamo fatto proprio due errori all'inizio del secondo tempo. Abbiamo preso due gol. Comunque poi siamo riusciti a restare in partita e potevamo farlo come anche prenderlo. Quindi, peccato. Speravo qualcosa di più, ma così è andata. Noi abbiamo fatto il nostro, abbiamo fatto bene. Ti ripeto, alcuni errori fanno la differenza. È un gioco comunque, quello impresso questa sera, che fa ben sperare in vista delle ultime tre partite, soprattutto se si andrà a giocare nei play-out. Adesso si salta direttamente due giornate più in là, nell'anticipo contro Valdagno. Un Valdagno in cui si è vinto in casa loro, però è un Valdagno che è cresciuto molto nella girona di ritorno. Sì, adesso noi dobbiamo fare più punti possibili e poi se saranno play-out ci prepareremo per i play-out. Se saranno qualcos'altro vedremo cosa fare. Insomma, Valdagno è una buona squadra, lo sappiamo. Dobbiamo preparare bene queste due settimane per affrontare al meglio la partita qui in casa, sempre contro Valdagno. Allora, forza a tele e in bocca al lupo. Grazie. Grazie.